Uno dei componenti più strassati nella bici da downhill sono sicuramente le ruote. Per questo 2021 ho l'opportunità di collaborare con un'azienda italiana per quanto riguarda appunto le ruote e infatti sono lieto di annunciarvi la mia collaborazione con Damil. Damil è una torneria italiana molto molto importante che costruisce mozzi e insieme appunto ai loro mozzi userò dei cerchi Stans. Stans è un'azienda molto molto rinomata per quanto riguarda i cerchi appunto. Però basta parlare, facciamo l'unboxing e li montiamo subito sulla mia M29. Come potete vedere il mozzo è Damil, rosso in tinta con l'Intense. Ha un sistema di ingaggi speciale a 120 ingaggi il quale fa un rumore molto bello. E il cerchi invece è Stans, il modello è ZTR Flow X3, è il modello apposito per il downhill che ha un supporto in più all'interno del canale. Ma bando le ciance, adesso montiamo le gomme e proviamolo. A presto! 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 A presto!